Mattinè in Piemonte per la Infodrive Capodorlando che domenica 6 febbraio alle 12 scenderà in campo contro Torino in una sfida dal sapore di Serie A. Assenti ancora Matteo Laganai e Andrea Traini, coach Cardani punta sull'entusiasmo che deriva dalle tre vittorie di fila ottenute contro Piacenza, Milano e Biella. Sarà una gara complicata contro una squadra di alto profilo per la categoria con tanti giocatori che hanno fatto anche la Serie A o che la rifaranno e a cui noi approcciamo dopo una settimana ancora complicata a causa degli infortuni ma con l'entusiasmo derivato dagli ultimi tre risultati utili consecutivi e dal desiderio di trovare delle alternative a queste difficoltà durante la settimana che ci hanno spesso portato a fornire delle prestazioni anche superiori a quelle che potevano essere le aspettative. Sì, saremo ancora senza Matteo Laganai, ancora non avremo l'opportunità di vedere all'opera Andrea Traini che sta però recuperando dall'infortunio e sarà presto a disposizione. Per quanto riguarda gli altri non abbiamo avuto una settimana facile che sotto l'aspetto sanitario abbiamo avuto qualche difficoltà nell'allenarci purtroppo con qualche virus intestinale però vogliamo sicuramente giocare la partita a viso aperto sfidando quella che è una delle favorite per i primissimi posti in graduatoria con direi con la fiducia anche che abbiamo acquisito nell'ultimo mese. Sì, penso che lui abbia decisamente elevato il livello del suo gioco, è sempre stato un grandissimo realizzatore dal primo allenamento che ha fatto qua con noi, dalla prima amichevole. Se si guardano le sue statistiche nel mese di gennaio si vede che ha giocato in maniera completa, ha dato un enorme contributo a rimbalzo, ha passato benissimo la palla creando tiri aperti per i compagni. È stato più lucido nelle scelte nel secondo tempo quando ovviamente le difese nei suoi confronti crescono di intensità e di organizzazione. Quindi siamo contenti per lui e raggiungerei che in un gruppo così giovane la capacità dei suoi compagni nel trovarlo, nel metterlo in condizione di realizzare con così tanta costanza non è da poco. Quindi complimenti ai suoi compagni che hanno avuto questa maturità nel crescere, nel capire come servirlo al meglio.